Esce. Ok. Nel frattempo su Instagram abbiamo riperso tutti. Speriamo che si ricollegano nel raggio di dieci minuti. Friulis è in diretta ora, vediamo qua. Ok, credo che adesso funzioni. Quindi era un check che mancava? Esatto, sì. Vediamo. Sì, perfetto, adesso c'è. Funziona, è grandissimo. Allora. Allora. Possiamo dire che abbiamo un largo anticipo. Intanto salutiamo chi si collega piano piano dalle varie pagine, perché sicuramente, spero, che ci siano persone che non conoscono te e persone che non conoscono me. La prima volta facciamo entrare nelle nostre case, durante questo periodo di quarantena, le persone. Esattamente, sì. Sono molto, non ti nascondo che sono molto eccitato, esaltato, molto felice di questa nostra combo, perché, insomma, è un'amicizia che è nata diverso tempo fa. Noi ci conosciamo, siamo conosciuti di persona, credo, a fare la cosa giusta, se non sbaglio, del 2017. Sì. Ci conoscevamo per via attraversi in altri momenti, poi abbiamo partecipato sempre a fare la cosa giusta ad un tavolo di lavoro organizzato da Radio Francigena, che salutiamo, cogliamo l'occasione di salutare, sperando... assolutamente che c'è sempre vicina... Che anche loro ci seguono. C'è sempre vicina e sostiene tantissime delle nostre attività e non solo, quindi salutiamo veramente tutto lo staff e siamo certi che seguiranno dalla prima fila del nostro parterra questa diretta. Esattamente, quindi... Io vado a mettere il link della diretta anche in altre chat di amici, vediamo se si collegano, intanto tu hai visto che si è collegato qualche tuo amico, se vuoi cominciare a salutarlo, che ci mandino dei commenti, io ho visto un certo Claudio dalla nostra pagina. Stavo vedendo una cosa che è giusto per iniziare con un po' di leggerezza, credo che sia la scelta giusta, Dario, un problema che a te non riguarda, ma con tutti i barbieri e i parrucchieri chiusi, io ho una chioma incredibile, tu invece vedo che vai di macchinetta come se... con un filo di gas. Ma se non è stato un problema per Mattarella, che fuori onda ha detto, appunto, non vado neanche io dal barbiere, direi che non è un problema, nemmeno per te. Ascolta, ma ti ricordi i live comment? Ah, eccoli qua, c'è Davide, Davide Comunale, dei cammini di Francigeni di Sicilia, salutiamo Davide, Mario Orlandi, che è una carissima amica pellegrina, e Gabriele Dini, che è un mio carissimo amico. Ciao a tutti ragazzi, grazie di... Ciao ragazzi, colgo l'occasione per salutarli anch'io. Che prima arriva a Mediacomo, dicevano, in questo teatro. In questo teatro d'eccezione, che è transeuropeo. Tra l'altro, leggevo dalle ultime notizie che la Germania sta cominciando ad abbassare un po' la cresta, per cui possiamo riconsiderarci amici, dai. Beh, noi di questo siamo sicuramente un bel baluardo, apriamo già le nostre frontiere, quindi se prendono ad esempio noi, siamo a cavallo. Ok, quindi... Alessandro, dai, arrivano, arrivano pian piano. Arrivano, arrivano, vedo che la nostra audience pian piano cresce. I nostri ospiti. Ci siamo collegati un po' prima, perché pensavamo che sarebbe stato tutto molto più complicato, tutto molto più difficile, invece, insomma, dobbiamo riempire un po' questi sette minuti, raccontandoci la sua... Ma direi che gli argomenti non mancano, Pietro. Se tu comunque vuoi raccontare brevemente del perché abbiamo deciso di fare questa combo, questa diretta insieme, che come si vede dal banner sotto di noi, si intitola Cammini per tutti per Io Cammino in Italia. Noi avremo degli ospiti di eccezione oggi, che cominciamo a dire che sono Alberto Conte per il Cammino di Europa e Andrea Pelegara con un suo amico per il Cammino della Solidarietà. Quindi, Pietro, perché ci è venuta questa idea? Ma in realtà era un'idea che era da tempo che volevamo organizzare, nel senso una collaborazione tra Free Wheels e Noisy Vision che, come abbiamo detto, operano sui cammini per un po' sbarrierare questa frontiera, per cercare di aprirla anche a persone che magari i cammini non pensano di poterli vivere. Cogliendo l'occasione di questa vacanza forzata che ci ha ovviamente travolto in maniera come dire, trasversale tutti quanti, abbiamo detto dai, sediamoci a un tavolo che per me insomma non è una grande novità di sedermi, per Daio invece un po' di più e quindi abbiamo detto dai, facciamo questa cosa qua, cerchiamo di portare un messaggio positivo, cerchiamo non tanto di interrogare i nostri amici, colleghi, interlocutori su quanto è accessibile un itinerario piuttosto che no perché tante cose ormai si sanno ma cerchiamo di capire nel momento in cui una persona magari con esigenze specifiche vuole affrontare un determinato itinerario quali sono le risposte che troveranno dall'altra parte cioè troveranno da parte degli autori delle guide da parte delle associazioni che promuovono determinati itinerari quindi pian piano ci sarà questo escursus con tantissimi ospiti nel tempo giusto una volta alla settimana esatto intanto cominciamo con i piedi felpati diciamo andiamo per gradi intanto abbiamo vedo che aumenta la nostra audience e sono una ventina dalla parte di Noisy Vision alcuni ti conoscono ma alcuni forse no tu hai detto che per te è scontato parlare di stare seduto a un tavolo e forse hai dato per scontato che molti sappiano perché puoi spiegare perché hai detto questa frase? sì effettivamente dopo è scontato perché penso sempre che insomma tutti mi conoscano ma non per come dire per per un ben determinato motivo ma perché insomma siamo questo piccolo grande mondo dei cammini si pensa insomma che sia sempre lo stesso in realtà hai ragione tu devo specificarlo perché io sono in sedia a rotelle lo sono da da sempre però questo questo tipo di insomma di limitazione non mi ha permesso di vivere grandi esperienze nella vita che magari non in questa occasione in altre occasioni ci sarà modo di di raccontarvi e sicuramente cosa comune tra me e Daio è stata l'esperienza del cammino che ci ha un po' aperto non solo la mente Daio ma anche le frontiere si può dire certo io colgo l'occasione per dire lo stesso di me per presentarmi un po' anche quelli che invece sono su questa finestra del mondo perché conoscono te io sono Dario Sorgato sono presidente e fondatore di Noisy Vision Onlus che sarà Onlus ancora per un po' ma continuano a spostare questa data del cambiamento del terzo settore comunque Noisy Vision è un'associazione che nasce da persone con disabilità visive e uditive perché io stesso ho una malattia che si chiama sindrome di Asher che comporta delle limitazioni sensoriali sia visive che uditive quindi da questa diciamo che siamo qua in due ma abbiamo disabilità a pacchi quindi se vogliamo metterla un po' sul leggero come dicevi tu ne abbiamo da vendere perché abbiamo tre disabilità in due un altro tema che poi svilupperemo è questo concetto della resilienza che per noi è un po' pane quotidiano o no? Esatto è uno dei temi che abbiamo usato per descrivere questo evento con cui vogliamo iniziare questa serie di dirette perché noi abbiamo cercato di ripartire nella nostra vita dopo lo shock perché anche se tu sei in sedia rotella dalla nascita e io sono stato diagnosticato con questa malattia in tenera età in ogni caso il momento dell'accettazione e il trauma non è detto che arrivi con la diagnosi e non è detto che arrivi col momento in cui ti vedi allo specchio può arrivare in un secondo momento in una fase avanzata della vita che credo che magari anche per te è arrivato più tardi so della tua storia che hai cercato di vincerla col cammino di Santiago e io lo stesso facendo tanti viaggi in giro per il mondo quindi pezzo per pezzo chi continuerà a seguirci regaleremo queste pillole delle nostre storie che sono sicuramente delle storie che magari accomunano molte delle persone che ci stanno ascoltando e sicuramente vale la pena condividerle ma anche sentirle perché lo ripetiamo è possibile commentare in questa diretta se no potremmo fare tranquillamente una registrazione video abbiamo preferito fare la diretta perché vorremmo proprio che la gente partecipasse e interagisse quindi ragazzi che siete in ascolto da entrambe le parti da tutte le piattaforme fateci sapere se avete anche voi delle storie e se questa parola resilienza per esempio è qualcosa che non vi torna poi così nuovo io direi Pietro che sono le 6 se hai ancora qualcosa da dire se no invitiamo il nostro primo ospite assolutamente io direi intanto di chiedere il collegamento dicevo che cercheremo appunto di seguire tutti i commenti e di non farci scappare nessuna domanda abbiate un po' di pazienza ma insomma sarà un po' buona la prima per noi ecco ecco sì io qua ho doppio schermo perché la mia ipovisione mi impedisce di guardare in certe situazioni e adesso volevo salutare chi aveva sono qua qualcuno che è arrivato anche dalla parte di Damiano Pelizzari ciao Damiano Davide ciao Davide Mirella sempre presente la cara Mirella che saluto con un forte e grossissimo bacio quindi direi Pietro che possiamo andare avanti invitare il signor Alberto Ponte eccolo qui ciao Alberto ciao Albi ciao ragazzi benvenuti a vedervi insieme ma direi che adesso sì certo anche noi nella tua che tra l'altro noi conosciamo già anche credo che anche Pietro sia già stato alla casa del movimento lento quindi se vuoi Alberto anche tu spendere una parola di introduzione del chi sei e magari guarda veramente mi sta quasi venendo da è commovente questo momento perché perché ne abbiamo parlato tante volte tu parli di Pietro quando lui non c'è tu parli di Dario quando Pietro non c'è cioè viceversa credo che sia un momento veramente molto toccante questo fatto che così a distanza comunque riusciamo a unire le nostre energie e a fare questa questa prima tavolata insieme di tanti progetti che abbiamo sognato nei nostri cammini sì per me è una grande emozione innanzitutto mi presento brevemente sono Alberto mi occupo da una ventina d'anni di viaggio lento me ne occupo come professionista progetto cammini in generale e cerco di valorizzarli meglio che posso ho creato varie realtà itineraria che è la mia azienda con cui mi occupo appunto di progettazione consulenza nel settore del turismo il movimento lento è l'associazione che presiedo che è stata fondata ormai quasi una decina d'anni fa e la casa del movimento lento che è il posto tappa per pellegrini dove vivo insieme a mia moglie Susanna e che è un posto tappa sulla via francigena e sul cammino di Europa noi siamo in Piemonte nelle colline vicino al lago di Viverone una zona molto bella e poco conosciuta per me è una grandissima emozione essere qua con Pietro e Dario sono due persone a cui devo moltissimo sono due persone forse le due persone che più hanno cambiato il mio modo di camminare di viaggiare di osservare due persone che appunto grazie ai loro limiti mi hanno fatto capire quanto siano importanti i miei e come sia importante imparare a superarli ecco l'argomento di oggi la resilienza è secondo me particolarmente centrato e voi siete le persone giuste per farci capire che ne usciremo che andrà tutto bene e che tutto andrà meglio di più grazie Alberto di questa introduzione nel profitto per salutare Pietro Martire che dice resilienza 100% anch'io sono in sedia a rotelle dopo uno scontro per un incidente durante una partita di calcio quindi ciao Pietro grazie della tua testimonianza poi salutiamo appunto tutti gli altri che man mano si stanno collegando credo che la gente vada o venga un po' come se mettessero il naso nelle nostre storie ma questa diretta sarà poi disponibile anche indifferita potranno comunque riguardarla con calma in qualsiasi altro momento della giornata Alberto grazie per questa appunto introduzione io vorrei anche passare di nuovo la parola a te per spiegare un po' anche del perché di questo hashtag che abbiamo messo nel banner di questa diretta e anche nel titolo di questo evento che avevamo creato in precedenza Io cammino in Italia è un'iniziativa che è nata da diversi partner diverse persone se ci vuoi spiegare brevemente di cosa si tratta è anche un momento per introdurre chi non ha conosciuto questa iniziativa ancora di entrare in questa rete Sì qualche settimana fa quando il flagello che ci ha bloccati poi in casa era arrivato soprattutto in Italia si è capito subito che il settore dei cammini e del turismo lento ne avrebbe risentito pesantemente si è capito subito che erano a rischio molti posti di lavoro molte aziende che magari micro aziende che con tanta fatica si erano fatte un nome anche nel nostro settore e io mi sono trovato come molti di voi in difficoltà pensando devo fare qualcosa non posso stare qua fermo e non fare nulla e quindi siccome vite non ne posso salvare ho pensato vabbè non salverò le vite ma magari qualche posto di lavoro è possibile riuscire a salvarlo e far sì che quando finirà questo periodo tremendo le persone camminino tornino a camminare più che mai e possibilmente lo facciano più che mai in Italia tanti di noi hanno camminato sui bei cammini del mondo il cammino di Santiago è solo il più noto per carità per corsi meravigliosi ma anche in Italia ne abbiamo tanti e in questo momento anzi dopo questo momento ci sarà più che mai bisogno che non solo che tutti noi camminiamo più possibile in Italia rilanciando questa meravigliosa microeconomia dei cammini ma possibilmente che portiamo più persone possibili dall'estero ho lanciato l'idea e moltissime realtà voi siete stati tra i primissimi ad aderire con entusiasmo adesso siamo una rete che sta crescendo sempre più quest'ultima settimana c'è stato proprio anche un bellissimo cambio di passo perché praticamente tutti i principali cammini italiani hanno aderito alla campagna il Ministero dei Beni Culturali ci sta in qualche modo sostenendo almeno moralmente in questo momento e questo è molto importante e una cosa concreta che noi stiamo facendo è innanzitutto abbiamo creato un gruppo Facebook che ha avuto un grande successo lo trovate facilmente digitando su Facebook io cammini a me ha messo a lineare che ci sono già 4.000 persone quindi oltre 4.000 persone quindi è un bel gruppo siamo 4.300 e cresce molto rapidamente quindi è già diventato uno dei principali gruppi su Facebook ma non sono i numeri che ci interessano quanto l'apporto concreto che questo gruppo potrà dare le persone più attive alcuni tra i migliori professionisti del settore stanno unendo le loro forze per pensare a come potrà diventare il turismo lento tra qualche mese e per fare azioni concrete per rilanciarlo azioni di comunicazione queste dirette sono una delle poche cose che possiamo fare in questo momento per tenere viva l'attenzione sui cammini sono comunque un momento molto importante quindi ogni sera o quasi ogni sera comunque d'ora in poi ci sarà alle 18 una diretta collegata a Io Cammino in Italia poi daremo l'appuntamento per domani che ci sarà un'altra diretta alla stessa ora e comunque ci stiamo organizzando poi per proseguire la nostra attività con attività di informazione con attività di comunicazione e stiamo già pensando anche all'importanza poi di promuovere questa questa campagna e i cammini italiani verso il pubblico estero Bene grazie Alberto io nel frattempo ho mandato in onda un commento di una persona che vorrei salutare chiaramente una persona che conosce Pietro Maura Orlandi ti dice niente Pietro? Assolutamente Maura mi ha aiutato tantissimo su su un progetto che riguardava il cammino di Santiago e quindi è una camminatrice veramente con un grandissimo cuore ma insieme a lei ce ne sono tantissimi che vedo continuamente scorrere collegarsi e quindi sono molto siamo molto felici insomma di questo di questo sequel che di persone che si stanno sempre più aggiungendo sia su Instagram che su Facebook anche perché in parallelo sto utilizzando il mio cellulare per andare in diretta su Instagram giusto perché le persone lo sappiano se vogliono appunto collegarsi bene io direi di tornare alla parola cuore Pietro perché anche Maura diceva Pietro mi ha insegnato a camminare con il cuore credo che siano parole molto belle perché in questi giorni tornano utili cioè noi adesso dobbiamo camminare più con il cuore con la mente che con le nostre gambe o ruote quindi io però vorrei anche sottolineare una cosa prima di passare all'argomento successivo del motivo per cui abbiamo invitato Alberto a partecipare a questo primo evento e che è il fatto che ragazzi diciamocelo la sosta è parte del cammino quindi in tutto questo enorme cammino della vita che noi diciamo che questa metafora super inflazionata che il cammino è come la vita eccetera ma vogliamo accettare anche che nel cammino ci sono delle soste e delle soste che non decidiamo noi il temporale durante un cammino lo decidiamo forse noi oppure il fatto di farci del male di romperci una gamba di sbucciarci un ginocchio di incontrare una persona che ci chiede di stare con lui quella notte nel loro nel loro ostello sono delle soste che il cammino ci offre belle o brutte che siano questa è una sosta di cui chiaramente avremmo fatto volentieri a meno ma prendiamola come una sosta e per quello che può insegnarci questa sosta quindi se vogliamo tornare al paragone alla metafora del cammino questa è una sosta e quindi con il cuore vogliamo stare anche nella sosta cosa ne dite? Alberto? Sì è molto importante fa parte anche dei liti che vanno accettati non siamo onnipotenti siamo in una situazione che ci forza a fermarci e se lo facciamo nel modo corretto si può tornare a camminare meglio di prima io ad esempio sto usando questo tempo sospeso per lavorare su progetti nuovi ma anche per camminare in un modo completamente diverso sono molto fortunato perché ho un piccolo giardino davanti a casa grosso modo 20 metri per 20 e tutti voi due lo conoscete abbastanza bene ebbene sto praticamente tracciando il cammino più corto della mia vita sono circa 78 metri a fare tutto il perimetro ormai ci passo così spesso durante il giorno che si sta creando un sentiero nel prato e io probabilmente c'è la buca tutto in trattorno ma è un cammino che ogni giorno mi dà qualcosa di diverso perché quando gli spazi si comprimono cambia lo sguardo e sto scoprendo una primavera completamente diversa sto conoscendo ogni singola erba del mio giardino sto seguendo l'evoluzione del lavoro delle api nei fiori del ciliegio eccetera eccetera lo sguardo cambia completamente ed è comunque un cammino molto interessante quindi appunto cambia tutto di vista ma è anche il mio un piccolo viaggio io vorrei salutare anche Lucia Mascio Pinto perché anche lei dice che vi ho conosciuto credo che abbia conosciuto voi due perché non credo di conoscerla e che ha detto che da quando vi ha conosciuto è rimasta affolgorata sui cammini grazie Lucia anche a te ma vorrei salutare anche un'altra persona che ha lasciato un commento che è un nome che spero che io non vedo al momento i vostri occhi perché siete coperti da varie icone ma quando pronuncerò questo nome vorrei vedere le vostre facce vi zoom un attimo che è Luca Casella che salutiamo Luca speriamo che sia ancora in collegamento con noi Luca Casella è il personaggio ideale per parlare e introdurre il prossimo argomento perché Luca ha camminato lungo un sentiero che passa proprio per quel cammino breve che stai tracciando tu ovvero per Roppolo dove c'è la casa del movimento lento che cammino è caro Alberto è il cammino di Europa eccolo qua il cammino di Europa ma Luca è connesso anche audio oppure è solo in chat no è solo in chat l'ho visto che ha salutato tutti quindi volevo introdurvelo e credo mi spiegherai anche perché è la persona più adatta per parlare di questo cammino sì la persona più adatta inizio a presentare brevemente il cammino di Europa è un breve cammino di quattro tappe che parte da Santià in provincia di Vercelli e arriva al santuario di Europa in provincia di Biella è un cammino che ho progettato con un'attenzione particolare a due categorie di persone una le persone che non hanno mai camminato in vita loro e quindi che erano magari un pochino spaventati dai lunghi cammini come la Via Francigena o altri cammini italiani magari più lunghi e quindi ho pensato di fare un cammino breve semplice ma che avesse un pochino tutte le simbologie le liturgie di un lungo cammino quindi una credenziale un testimonio i timbri dei luoghi di sosta convenzionati dove dormire e una segnaletica la segnaletica vi confesso inizialmente era stata pensata tradizionale bianca e rossa se non che poi Dario ha incrociato il mio cammino mi ha fatto capire l'importanza del giallo ed ecco che a progettazione anche abbastanza avanzata abbiamo detto no allora siccome il giallo e il nero come potete notare anche dallo sfondo di questo di questa diretta non solo è il simbolo di noisy vision ma è il contrasto di colori che viene visto non direi meglio ma meno peggio da una persona ipovedente abbiamo deciso di dare un segnale di accessibilità almeno per gli ipovedenti a questo cammino e abbiamo anche rivisto la progettazione del cammino per renderlo il più adatto possibile a persone con problemi visivi quindi abbiamo praticamente a zero abbiamo perso un piccolo momento di pausa parlavamo di pause pensate esatto io ne approfitto per mandare sei tornato Alberto sì spero di sì sei tornato ne approfitto però per mandare in onda anche un altro commento di Luca Casella che nel frattempo ha detto che anche la musica noi sappiamo che Luca noi sappiamo o almeno chi lo conosce sa che Luca è un musicista e che quindi lui ha fatto chiaramente riferimento con la musica dicendo che anche la musica è fatta di pause quindi grazie anche grazie di nuovo Luca per questo commento ripasso la parola ad Alberto che continua la sua introduzione sul cammino di Europa sì scusatemi e quindi abbiamo riprogettato anche il cammino in modo da ridurre al minimo tratti esposti tratti in presenza di traffico di automobili tratti con radici sentieri stretti e così via per creare un cammino che fosse il più adatto possibile anche a persone con problemi alla vista abbiamo fatto un primo collaudo del cammino proprio insieme a Luca e alla sua compagna Giulia e abbiamo fatto questa esperienza straordinaria certo saluto tanto Giulia spero che anche lei ci sia nella diretta ed è stata un'esperienza meravigliosa perché ci siamo resi conto ci siamo resi conto che che anche chi non vede continuo io per lui perché forse qualcosa lo so ci siamo resi conto che anche chi non vede può chiaramente camminare in mezzo alla natura nei boschi spero di aver detto bene Alberto che nel frattempo è tornato no non è tornato però io nel frattempo leggo il commento di Nicoli Nicoli Massimo che il cammino di Europa sarà il primo cammino che farò quando potrò tornare a camminare bene caro caro Massimo speriamo di vederti con noi perché anche noi ce l'abbiamo in programma come Noisy Vision e salutiamo anche via Romea Germanica che è un altro importantissimo cammino che speriamo di poter presentare presto stavi dicendo Alberto che nel frattempo sei tornato e scusate la linea non ci assiste qua in campagna che hai scoperto che anche persone con una disabilità visiva totale come Luca e Giulia possono comunque camminare in natura immagino fosse questa che volevi dire mi dispiace ma non la linea è proprio molto molto ballerina hai sentito quello che ho detto Alberto no probabilmente no in ogni caso continua ho sostituito le tue parole perché immaginavo che volessi appunto dire che anche chi ha disabilità visive come quelle di Luca e Giulia può camminare questo cammino l'avete fatto nel 2018 se non sbaglio o forse no sì nel 2018 che è stato poi ripetuto con il progetto cammino di Europa ad occhi chiusi che avete fatto ad aprile del 2019 questo cammino sì dovrebbe essere ripetuto per ora diciamo dovrebbe essere ripetuto senza fare nessun pronostico troppo lungimirante o o o disfattista diciamo che a fine aprile dovremmo usiamo il condizionale poi vedremo quel che sarà però Noisy Vision con un gruppo di 15 persone tra miste tra persone ipovedenti e non vedenti dovrebbe percorrere il cammino da Santia fino a il santuario di Europa sì speriamo che si possa confermare e comunque lo faremo al più presto esatto quindi ne approfitto per dire che noi abbiamo scelto appunto di come associazione di Noisy Vision di continuare a promuovere questo cammino da un lato perché come dicevi tu è un cammino molto fattibile anche per persone con possibilità atletiche non eccellenti o non estreme e anche perché ha delle tappe mediamente brevi quindi una quindicina di chilometri o poco più quindi comunque è fattibile anche in tempi rilassati e con delle tempistiche rilassate e poi perché comunque è anche raggiungibile facilmente no? Si può partire tranquillamente dalla stazione di Santià quindi anche chi arriva il mattino stesso con il treno può ripartire ben collegato con i mezzi che sono un po' anche gli elementi che rendono poi un cammino fruibile giusto Alberto? Tu che sei un esperto sì lo rendono fruibile più facilmente chiaramente un cammino lineare ha sempre il problema di raggiungere il punto di partenza di ritornare dal punto d'arrivo e lo rendono più che mai un cammino sostenibile e quindi in questo momento è molto importante prestare attenzione anche al tema della sostenibilità lo rendono anche un cammino adatto anche al primo periodo che purtroppo dovremo attraversare alla fine di questo incubo perché chiaramente spostarsi non sarà così semplice almeno per qualche mese e quindi per un milanese o un torinese poter prendere il treno e in meno di un'ora essere al punto di partenza di un cammino tra l'altro molto bello è un grosso vantaggio ecco noi come Noisy Vision abbiamo scelto di usare la formula che tu hai sposato appieno anche nei progetti che hai fatto in altre mani un'altra formula che è quella dell'inclusione ovvero non è un cammino per ciechi fatto con persone non vedenti che si devono portare l'accompagnatore ma è un cammino misto in cui persone con diverse non mi piace nemmeno dire con diverse abilità perché non è così persone diverse semplicemente camminano insieme è la formula che ci piace e che quindi le persone vedenti si alternano nel fare da accompagnatori alle persone ipovedenti e non vedenti ecco Pietro tu un po' questa zona la conosci anche tu e forse avevi anche tu in cantiere qualcosa da quelle parti sì in realtà io ho già avuto la fortuna con Alberto di fare delle proficue passeggiate da quelle parti lungo sia la via francigena e se non sbaglio poi chiediamo conferma a lui alcuni tratti del cammino d'Europa viaggiano proprio sopra la via francigena e quindi ti posso dire che anche le condizioni di diverse strade bianche eccetera sono ottime a mio avviso anche per persone a mobilità ridotta che ovviamente si attrezzino con ausili che permettano insomma di viaggiare su strade bianche Alberto ci dici qualcosa sul profilo altimetrico piuttosto che sulla condizione di diversi stratti sterrati la percentuale di asfalto secondo te è fattibile anche che una persona opportunamente attrezzata a mobilità ridotta si cimenti in un viaggio sul cammino d'Europa? è tosto con la carrozzina sicuramente è tosto quindi per te lo sappiamo che con il fisico che hai è fattibile soprattutto se hai una bicicletta pedalata assistiva nel caso appunto di un handbike pedalata assistita si può fare è una bella sfida ma si può fare altrimenti ci sono dei tratti insomma di salita abbastanza anche importanti soprattutto nella seconda parte del percorso nella seconda parte del percorso io ne approfitto perché ho mandato in onda il commento di Fiore che si è sentito adesso? si si è tornato Alberto? pronto pronto ci siamo vai Alberto stavo dicendo che ne approfitto per salutare Fiore eccoci nel frattempo stavo leggendo un commento Alberto che è quello di Fiore che dice che in questo momento storico mi sta ricordando che è proprio il cammino di Santiago camminare e fermarsi ascoltare e ascoltarsi grazie Fiore per il commento e poi vorrei salutare anche Marzia che ha detto che spera di convincere il suo marito scusami Maura di convincere il suo marito a fare questo cammino nel frattempo si è collegato anche Marco nostro carissimo amico che ci saluta che è una delle nostre guide che collabora appunto con noi esibizio Alberto se vuoi continuare nel frattempo Eriamo arrivati alla seconda metà del percorso che potrebbe essere un po' più complicato E' complicato anche connettersi con Alberto quindi comunque continuiamo con la lettura dei commenti nel frattempo c'è stata c'è una instancabile fan che si è collegata che è la signora Zambonina Anna Maria nonché mia mamma che saluto caramente ciao mamma è sempre bello poter dire ciao mamma dalla televisione e questa volta lo possiamo dire in modo veramente spontaneo questa non è preparata questo è il bello della diretta so che ci sono diffusi anche vediamo cosa dice la mamma so che ci sono diffusi anche dei walking meetings ovvero riunioni di lavoro camminando all'aria aperta certo anche questo è un sistema infatti lo vorremmo proporre anche noi come Noisy Vision proprio di fare dei seminari itineranti che è un po' anche quello che facciamo proprio con con Alberto alla casa del movimento lento ne approfitto per ricordare il cammino il seminario che si sarebbe dovuto tenere ai primi di aprile in cammino in ogni senso anzi oggi è il 2 proprio domani guarda proprio domani sarebbe iniziato questo seminario dimmi Dario è caduto nel frattempo Alberto lo proviamo richiamare così dovrebbe ricollegarsi semplicemente lui appena lo vedo online lo ricollego e gli facciamo mandare i saluti perché in realtà siamo quasi in chiusura del collegamento con lui perché abbiamo poi i nostri altri ospiti che già li vedo in attesa che scalpitano e che quindi scoprire appunto anche il cammino di Europa con una bicicletta pedalata assistita e con un buon spirito di adattamento può essere un'esperienza ad oggi pensata anche per persone in mobilità ridotta quindi si apre un po' il prisma delle utenze che può accedere a questo fantastico cammino grazie sì per questo contributo nel frattempo Luca continua a seguirci a darci la sua feedback dicendo che si ricorda benissimo della salita che stava nominando Alberto poc'anzi quindi grazie Luca che continui a commentare a seguire questa diretta invitiamo anche tutti gli altri a mandare i loro commenti per così anche chiedere delle informazioni anche se hanno delle disabilità magari sono tornato no Alberto non è tornato eccolo qua sì Alberto eccolo qua ok Alberto bentornato sì scusate niente figurati ti diamo la parola il mio paesino sono tutti connessi a internet a quest'ora bene ma in ogni caso comunque anche questo è il bello della diretta come dicevo prima la mamma che arriva gli amici che arrivano Luca che continua a commentare a farsi sentire e altre persone vogliamo comunque darti lo spazio per così continuare quello che stavi dicendo e farti fare un saluto di chiusura visto che abbiamo due ospiti che sono in attesa sì sì infatti scusatemi per la qualità della connessione ma appunto il bello della diretta no appunto io quello che spero adesso di poter fare questo primo cammino con Pietro e Giulia insieme un'altra Giulia che sarà sarebbe al primo cammino spero che si possa fare tra giugno e luglio e sarebbe una cosa veramente bella e molto importante che suggerirebbe ulteriormente la nostra attenzione all'accessibilità dei cammini e comunque penso che possa essere anche da un punto di vista umano un'esperienza indimenticabile e vi saluto e vi ringrazio tanto e sono molto felice appunto di avere di essere partito insieme a voi in questo breve viaggio da fermi lungo io cammino in Italia vi aspettiamo per domani sera alla stessa ora stay connected come si dice dove Alberto perché la diretta non la trasmetteremo noi quindi dove possiamo seguire la diretta non volevo rubarvi il mestiere domani va in onda dalla pagina dell'Associazione Europea delle Vie Francigena e quindi la pagina ufficiale della Via Francigena ci sarà Elisa Peruzzi questa grande camminatrice che l'anno scorso ha camminato da Desenzano a Finisterre per circa cinque mesi racconterà i vari passaggi dell'avvicinamento al cammino e quindi domani sarà la prima di una serie di puntate in cui Elisa racconterà tutte le fasi di un cammino e potete collegarvi sulla pagina dell'Associazione delle Vie Francigena o sul gruppo Facebook Io Cammino in Italia bravo in ogni caso abbiamo fatto bene a ripetere la metà perché ci sono delle persone che si collegano anche a metà e che poi magari per motivi privati vanno via per cui è bene ricordarlo ciao Alberto grazie per essere stato con noi grazie Alberto di questa start up salutiamo Alberto nel frattempo io vorrei leggere il commento di Marco Albertini che dice che anche Socrate camminava all'aperto con i suoi allievi quindi anche il Marco vuole rafforzare quello che aveva detto Anna Maria sui walking learning quindi questi cammini itineranti in cui si impara dai io volevo antimino raccontare meglio quello che diceva anche Alberto che appunto sia io che Giulia la mia ragazza avremmo la voglia e l'intenzione insomma il desiderio di intraprendere questo primo cammino assieme e abbiamo puntato gli occhi appunto sul cammino d'Europa un'esperienza che insomma crediamo speriamo sarà veramente grandiosa perché per lei è il primo cammino e per me è il primo cammino da come dire da guida se così si può dire e quindi anche dal punto di vista non solo itinerante ma anche dal punto di vista se vogliamo umano per la prima volta mi troverò non tanto nelle veci di viaggiatore ma anche nelle veci di guida e questa cosa insomma mi fa particolarmente gioia perché posso magari riuscire a elagire le emozioni che vivo io anche a Giulia nel frattempo sto vedendo che tra le persone collegate se collegate anche la mamma di Giulia che saluto ciao Stefania si stanno collegando sempre più persone continuo anche io a vedere tantissimi commenti direi che sta avendo un discreto successo siamo molto contenti Pietro io però vorrei fare un piccolo commento su quello che hai appena detto e dire che trovo che sia veramente una cosa molto bella quella che tu e la tua compagna farete e vi auguro un strepitoso viaggio ma sapete bene che anche nei viaggi si vede anche quanto è solida una coppia quindi ovviamente sempre che questa epidemia ce lo permetta ricordiamo sempre che noi stiamo ragionando appunto in una condizione come dire ipotetica quindi vedremo un pochettino come si dipanerà il panorama davanti a noi e davanti a tutti noi e sperando di tornare presto a camminare di poter fare anche questo viaggio che dici chiamiamo Andrea e Fabrizio certo eccoli qua allora carissimi vi imprendiciamo i nostri prossimi ospiti che sono appunto Andrea e Fabrizio benvenuti in questa chat in questa diretta ciao ragazzi ciao grazie buonasera ciao ciao buonasera spero mi vediate e mi sentiate sì sì ci sentiamo benissimo ti vediamo sei inquadrato bene quindi adesso ti passeremo la parola per introdurre chi siete e perché siete qui Andrea vuoi cominciare tu? sì 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 certo buonasera allora come ripeto allora noi siamo facciamo parte di un'associazione escursionistica che si chiama Pontieri del Dialogo Pontieri del Dialogo è un'associazione appunto che ha come obiettivo chiamiamo la missione quella dell'esplorare la parte il lato sociale del camminare noi siamo interessati a fare gruppi di persone che camminano nel rispetto delle differenze che ciascuno di noi ha che possono essere di natura religiosa culturale linguistica e naturalmente anche fisica psichica ecco questa è un po' la caratteristica la connotazione della nostra associazione e un po' i discorsi che ascoltavo e che sentivo prima in certo senso sono molto simili ad alcune esperienze che abbiamo avuto anche noi abbiamo un progetto che si chiama appunto Ponti di Vista in cui gruppi misti di vedenti ipovedenti e normovedenti camminano insieme è il gruppo che porta tutto il gruppo come avete detto voi d'altronde tante persone da sole non si avventurerebbero in un cammino avrebbero comunque bisogno di un gruppo ed è proprio questo un po' lo spirito che anima i gruppi certamente questi momenti diciamo di l'epidemia il contagio il distanziamento sociale pone delle questioni che ci siamo posti anche noi perché il distanziamento sociale naturalmente pone dei limiti non vedente ha bisogno di essere accompagnato può essere complicato avere una distanza di un metro o forse anche di più e però poi come si pone il tema dell'accompagnamento infatti proprio con Fabrizio e con altri abbiamo cominciato anche a ragionare proprio nell'idea che noi speriamo che la cosa si risolva e finisca in tempi brevi ma come tutti sappiamo i tempi non saranno brevissimi quindi delle regole le dobbiamo considerare e alcune di queste adesso fra poco ve le racconteremo diciamo alcune sono proposte le stiamo un po' discutendo fra di noi insomma mi so piacere che hai introdotto questo argomento perché noi che Noisy Vision fa un po' da radar da cassa di risonanza per tutto quello che è il tema della disabilità sia visiva che auditiva e questo argomento l'abbiamo lanciato immediatamente credo il giorno dopo del decreto legge e è stato ripreso dopo di noi anche dall'organizzazione mondiale della sanità e quindi dall'associazione Apri Onlus quindi le associazioni di categoria già hanno chiaramente evidenziato questa tematica del contatto ma che al di là del fatto stesso del fatto dell'utilità dell'utilità nella deambulazione e nella mobilità per un non vedente è comunque una necessità perché trasmette qualcosa noi un sorriso lo vediamo un non vedente lo tocca ok quindi Fabrizio visto che abbiamo ormai svelato questa cosa vuoi presentarti anche tu sì ciao buonasera a tutti molto rapidamente ho 44 anni sono di Roma non ti nasconderlo perché si sarebbe capito dopo 3 o 4 secondi e boh di lavoro faccio il dipendente della Banca d'Italia sono un consigliere regionale nel consiglio regionale del Lazio dell'Unione Italiana e tra le cose che mi piace fare nel tempo libero c'è proprio l'attività del camminare un altro grande socio nel curriculum anche socio pontieri del dialogo grande non lo so però io però vorrei dire che devo rispelare ai nostri ascoltatori ai nostri follower che questa presentazione è stata fatta tramite Pietro perché me a culpa non vi conoscevo poi così bene nei pontieri del diavolo del dialogo né ne appunto Fabrizio e Andrea di persona o comunque così non ci avevo mai parlato la ragione per cui ho suggerito comunque a Pietro di intervistarvi è perché credo che se io dico la parola cammino della solidarietà vi risuoni qualcosa è così? sì esattamente allora il cammino della solidarietà è un altro progetto nato all'indomani del terremoto del 2016 quindi ecco perché quest'anno è la quarta edizione e nasce proprio con l'idea di dare un aiuto concreto alle popolazioni umbre colpite dal terremoto che soprattutto ha colpito anche tutta quella parte di turismo che era molto sviluppata in tante zone il cammino della solidarietà parte proprio da Norcia voi pensate Castelluccio per dire è una qualità famosissima a livello mondiale e purtroppo il terremoto prima e ahimè tutti i problemi connessi alla mancata ricostruzione che tuttora c'è rende naturalmente queste regioni particolarmente difficili come ripresa economica oggi poi certamente il contagio il coronavirus certamente non potrà che peggiorare questo quindi siamo partiti con un gruppo di associazioni inizialmente è stato organizzato da una persona di Milano diciamo sostanzialmente ogni anno è un progetto come dire che proprio parte dal basso non ha una struttura organizzativa fissa ma ogni anno c'è una delle associazioni del gruppo di questa associazione che fa capo al cammino della solidarietà che si prende in carico di organizzare un'associazione ma anche singoli come dicevo cittadini attivi il primo appunto che fece questo cammino nel 2016 nel 2017 scusate è stato Maurizio Ornella che era una persona singola un camminatore ma una persona poi è stato il turno di Paola Poddige di nuovo una persona singola sarda poi l'anno scorso l'hanno organizzato i nostri amici di Puglia Trekking appunto pugliesi e quest'anno abbiamo deciso di farlo noi questo cammino parte da Norcia nei giorni di Pasqua a questa come dire formato quindi è il venerdì il sabato e la domenica è il lunedì di Pasqua cioè la Pasquetta e fa le prime tre tappe del cammino di San Benedetto quindi parte da Norcia da Norcia arriva a Cascia da Cascia arriva a Montellone di Spoleto e chiude a Leonessa arriva nel Lazio ma scusa per capire il cammino della solidarietà è sempre nel cammino di San Benedetto o si sposta di volta in volta in tracciazione no 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 è sempre noi in realtà quest'anno volevamo proporre una diciamo un giorno in più questa è la nostra ipotesi iniziale ma ovviamente gli eventi ci hanno adesso impedito di farlo perché come sapete Pasqua la prossima settimana ed è chiaramente impensabile poter organizzare un cammino ma canonicamente in tutte le edizioni ha sempre fatto le prime tre tappe del cammino di San Benedetto quindi diciamo che ci si vedeva il venerdì sera di Pasqua si faceva sabato domenica e lunedì prime tre tappe del cammino la cosa interessante però è che io ho pensato a questo cammino come prima edizione della nostra prima diretta perché noi stiamo parlando di cammini per tutti stiamo parlando di resilienza e volevo un po' introdurre il fatto di come il cammino già in passato è stato lo strumento per ripartire lo strumento per fare solidarietà e quindi nello specifico vorrei che ci raccontassi come siete stati di aiuto alle popolazioni locali e cosa può veramente fare un cammino per aiutare beh è un aiuto concreto perché intanto questi cammini che portano camminatori da tutta Italia nelle edizioni passate è sempre stato così portare 150-200 persone nel periodo di Pasqua significa concretamente alimentare la microeconomia del posto perché naturalmente significa andare a dormire mangiare quindi significa un atto concreto di portare a far girare ad aiutare la microeconomia del luogo e poi questo naturalmente è anche un momento importante perché attira l'attenzione vuole anche mettere i fari sul tema della ricostruzione purtroppo è di tutte le difficoltà che con esse sono connesse e naturalmente sensibilizzare su questo tema e sensibilizzare tutta la comunità dei camminatori perché anche nel resto dell'anno venendo a vedere a conoscere territori fra l'altro straordinari bellissimi dal punto di vista naturalistico storico culturale artistico come tanta parte d'Italia posso essere un'occasione 12 mesi all'anno di essere visitati quindi questa è la doppia cosa microeconomia sostegno concreto in quei giorni un volano per impitare anche nel resto dell'anno ad andare su questi cammini sul cammino di San Benedetto come su tanti altri cammini e poi tenere il fari accesi le luci accese sul tema della ricostruzione che come ho detto purtroppo a tutt'oggi dopo quattro anni è ancora centenna ecco io vorrei vorrei collegarmi proprio a quello che stai dicendo perché sono un po' i principi che stanno dietro la campagna io cammino in Italia quindi c'è già un esempio concreto di come il cammino può essere un punto di ripartenza io vorrei passare la parola a Fabrizio per dirti come vi siete conosciuti e se Fabrizio ha fatto questo cammino si guarda molto semplicemente pontieri del dialogo tra le varie realtà con cui farrete è federata una federazione di escursionisti che si chiama Feder Trek che è operativa in tutta Italia principalmente nel Lazio perché nasce da qui nasce dal Lazio e io prendendo parte a una serie di escursioni organizzate dalle tante associazioni che fanno parte di Feder Trek a un certo punto mi sono imbattuto in loro e ho trovato una roba che a raccontarla non ci si crede solitamente cosa accade molte realtà naturalmente organizzano degli eventi delle escursioni dei trek più o meno impegnativi e dicono chi vuole partecipare si prenoti chiamando questo numero ovviamente tu cosa fai? chiami e spieghi la tua situazione alla guida di turno e dici guarda io ho questa situazione sono cieco assoluto cammino discretamente ve la sentite di portare anche me in questo gruppo qualcuno dice sì qualcuno dice no qualcuno dice forse con loro io ho trovato il contrario dopo averli conosciuti dopo che c'è stato il primo momento come i cani che si fiutano a vicenda quando quell'operazione lì è finita a un certo punto loro hanno cominciato a chiamare me io ho detto no c'è qualcosa che non funziona tu hai una realtà che ti contatta e ti dice vuoi venire con noi una persona nella nostra condizione non può fare a meno di notarla una cosa del genere certo ma Fabrizio tu conoscevi Noisy Vision prima di oggi? io vi conosco a tal punto che sono iscritto alla nostra newsletter quindi sì ah ecco allora speriamo di averti anche tra i soci perché comunque quello che stai dicendo è esattamente il principio che sono dietro alla nostra associazione cioè portare i vedenti a capire che sono loro ad avere qualcosa in più quando vengono a camminare con noi perché come la pausa ci sta insegnando adesso dal valore del cammino così tanto il buio insegna ai vedenti il valore della luce e di quello che vedono quindi ragazzi questo è il messaggio principale del perché io e Pietro abbiamo deciso di raccontarvi questa storia il commento di prima dell'amica di Pietro diceva che Pietro gli ha insegnato a camminare col cuore e Fabrizio ci sta raccontando in questo momento cosa vuol dire grazie a questo aneddoto che ha voluto raccontarci cosa vuol dire camminare con 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 le con vedere con altri occhi no? queste cliché che vengono usate quindi Andrea io passerei di nuovo la parola a te per raccontare a Pietro invece cosa può fare scusami Dario volevo solo dire una cosa effettivamente prima che mi passi insomma di testa è che parlando appunto di associazionismo parlando di solidarietà viene in mente una frase di Chris Rock che è il fondatore di di McDonald's che dice appunto che nessuno di noi è tanto forte quanto noi messi tutti assieme quindi questo ha maggior ragione per far capire quanto veramente veramente tutti uniti con il proprio punto di vista con le proprie esigenze specifiche uno diverso dall'altro possiamo fare una squadra che veramente può rivoluzionare il mondo tra virgolette eh io prima di ripassarvi la parola perché stavo cercando di tradurre il tema invece dell'accessibilità per persone con disabilità motoria ad Andrea per capire se è un percorso che potrebbe interessare a qualcuno e volevo dire che ti saluta Bartolomeo immagino potrebbe essere tuo padre è arrivato prima tuo padre poi mio padre adesso chissà chi e poi ci saluta i parenti che dice mi state facendo sognare ci fa molto piacere che questa diretta stia facendo sognare le persone perché era proprio questo l'intento camminare con il cuore Andrea quindi se vuoi raccontare un po' cosa può se questo percorso può essere anche accessibile in questo senso allora naturalmente poi il buon Pietro lo sa perché il cammino di San Benedetto è stato da lui come dire mappato in termini proprio di accessibilità quindi perché poi l'accessibilità Pietro lo insegna quindi non saprei io a doverlo dire in realtà non è solo fatta di sentieri accessibili ma di luoghi accessibili perché se io non ho un bar non ho un posto dove dormire non ho una farmacia dove entrare o un negozio dove comprare un panino anche se poi il sentiero è accessibilissimo poi io però muoio di fame di sete e quindi chiaramente non riesco a fare nulla quindi è tutto un insieme di cose al contorno che debbono esserci per garantire l'accessibilità e questo rende non facile naturalmente sono purtroppo pochi troppo pochi i cammini che sono per tutti quando si vuole usare questa frase che usa Pietro in realtà questa frase andrebbe usata purtroppo per pochissimi cammini San Benedetto insomma è stato proprio mappato da Pietro e quindi da questo punto di vista gode di questi vantaggi non solo nelle prime tre tappe ma anche in quelle successive ricordo che il cammino di San Benedetto parte da Norcia segue la vita di San Benedetto quindi parte da Norcia dove è nato il Santo e arriva a Cassino dove lui ha soggiornato ed è morto è un cammino di 300 chilometri poco più di 300 chilometri che si sviluppa appunto tra Umbria e Lazio quindi Pietro vuoi raccontare un attimo scusa Andres ti interrompo ma vorrei che Pietro raccontasse cosa vuol dire mappare un cammino cosa hai fatto? Allora innanzitutto questa è stata un'operazione fatta dall'associazione da Free Wheels e io tenevo un po' le fila un po' di tutti i lavori cosa si intende quando intendiamo un cammino per tutti e quando intendiamo mappare un cammino innanzitutto l'obiettivo è quello di aprire a un'utenza quanto più variegata di persone questa esperienza quindi se si avvicina alla persona faccio un esempio celiaca la persona celiaca ha bisogno di sapere dove può acquistare alimenti per celiaci quindi mappare per una persona celiaca un itinerario significa dare questa informazione cioè georeferenziare dove può andare fisicamente concretamente ad acquistare alimenti per celiaci questa cosa vale per le persone con mobilità ridotta che magari hanno bisogno di un servizio accessibile la stessa cosa vale per altri tipi di esigenze quindi insomma ripercorrendo un po' ciò che ha ricordato anche Andrea e che ringrazio nel 2016 abbiamo mappato un percorso completamente asfaltato del cammino di San Benedetto da Norcia a Monte Cassino in realtà fino a Cassino perché a Monte Cassino per quanto magico è stupendo il posto c'è solo l'abbazia un percorso di circa 370 km questo appunto perché per dare l'opportunità anche a persone a mobilità ridotta di vivere l'esperienza del cammino benedettino infatti mi viene da chiedere colgo questa occasione per chiedere appunto ad Andrea nel momento in cui magari una persona a mobilità ridotta si avvicina o si sarebbe avvicinato perché immagino che il cammino della solidarietà 2020 Andrea verrà posticipato insomma se si avvicina a questa esperienza qual è la risposta che trova nel senso cosa si può fare cosa può percorrere qualcuno percorrerà con lui una via completamente asfaltata magari quella suggerita da noi insomma qual è la proposta nel momento in cui magari una persona a mobilità ridotta decide di percorrere con voi il cammino della solidarietà certo allora intanto volevo scusami Andrea prima della risposta se intanto chi ci segue vuole fare delle domande su queste tematiche siamo qui per rispondere quindi Andrea se vuoi proseguire certo certo allora intanto volevo subito dire certamente il cammino della solidarietà è diciamo rinviato non può tenersi in queste date ma ripeto rinviato non cancellato proprio perché pensiamo che non si debba cancellare noi abbiamo individuato speriamo che sia possibile poterlo fare nella prima settimana di settembre quindi noi invitiamo tutti i camminatori che volessero aderire dal 4 al 6 di settembre faremo il cammino della solidarietà quindi questa come prima data e speriamo che per quella data la situazione ci possa consentire di poter fare un cammino in cui possono venire persone da tutta Italia speriamo anche vogliono seguire gli aggiornamenti cosa devono fare la pagina facebook dei pontieri del dialogo allora noi abbiamo un gruppo facebook che si chiama il cammino della solidarietà 2020 abbiamo la nostra pagina che si chiama quella dei pontieri del dialogo su instagram su youtube su facebook un sito che è pontierideldialogo punto org e quindi come dire tutte le possibilità di accedere appunto sia se uno ai social sia se non ce l'ha per poter avere informazioni se non avesse o non volesse accedere ai social o al sito anche basta una semplice mail a info chiocciola pontierideldialogo punto org e noi gli diamo tutte le informazioni che vuole tornando a quello che diceva Pietro ma naturalmente massima disponibilità da parte nostra e massimo spirito di accoglienza per chiunque volesse venire certo penso che ci sia del lavoro da fare da questo punto di vista il cammino della solidarietà non ha mai ospitato in maniera importante persone con mobilità ridotta finora quindi da questo punto di vista non è stato fatto ma questo non vuol dire che non si possa iniziare quindi ben volentieri massima disponibilità massima idea di collaborare per questo con Friuli percorrere percorrere tu Pietro come ben sapete almeno tu e Andrea che mi conoscete da un po' di più di tempo ho avuto qualche problemino di salute al momento non ho ricominciato a camminare però mi cullo sotto come dire l'ombrello che in questo momento nessuno cammina quindi quando torneremo a camminare magari lo faremo tutti insieme ci sarò volentieri anch'io anche perché volevo dire una cosa bella che il cammino della solidarietà tocca come ha detto Andrea le prime tappe del cammino di San Benedetto ma sono tante e sono molto belle tutte le comunità che vengono toccate tappa per tappa fino a Monte Cassino e quindi insomma l'invito è proprio quello di percorrere non solo il cammino della solidarietà ma continuare il cammino di San Benedetto proprio per scoprire dei territori che a mio avviso meritano appunto tutta l'attenzione che insomma tutta l'attenzione che è possibile ecco ok grazie Pietro io vorrei passare la parola a Fabrizio perché vorrei fargli fare una cosa che non abbiamo preparato quindi spero che sia possibile farla vediamo se funziona ma sono sicuro che da come da come te poni sei la persona giusta per questo io vorrei invitare tutti lo farò anche io lo faremo anche noi in diretta a chiudere gli occhi e che tu Fabrizio ci accompagnassi in una delle tappe di questo cammino una che ti ricordi in modo particolare che ci facessi proprio camminare con te con la tua memoria con i tuoi ricordi perché come dicevamo adesso è un modo per farlo è quello di farlo con la mente ma proviamo a farlo davvero come esercizio tutti insieme siamo in questo momento circa 80 persone connesse se 80 persone in questo momento ci riesci a portarle per qualche passo insieme a te ci faresti un enorme regalo non c'è la musichina ma facci sognare io direi di cominciare a chiudere gli occhi e poi a te la parola allora io direi che tu mi stai sopravvalutando alla grande perché non credo di essere in grado di fare una cosa del genere però quello di cui forse possiamo parlare è il significato che per una persona che non vede a camminare perché banalmente la chiamiamo la critica che io ritengo sempre costruttiva che viene fatta ma se non vedete che ci andate a fare nei boschi che andate a fare a camminare che è un discorso molto pericoloso perché potrebbe essere esteso a molti altri aspetti della vita banalmente insomma quello che immagino su queste pagine vi siate detti molte volte è che ringraziando il cielo non abbiamo un senso solo ne abbiamo ben cinque i quali pure se ne manca uno ci raccontano un sacco di cose non lo so in un bosco banalmente il rumore di un ruscello il profumo di una pianta il verso di un animale poi detta così sembra che siamo tutti botanici e ornitologi in realtà assolutamente no non è che uno sente un verso di un animale e dice ah questo è questo è un tordo dal collare no chiaramente lì c'è il semplice piacere di ascoltare un rumore che magari in un ambiente cittadino nel quale molti di noi sono immersi sono di Roma non si non si ascolta più a meno che non ci si faccia a molto caso forse in questo periodo sembrerebbe che gli uccelli siano tornati a riprenderti la città e poi c'è un altro aspetto decisamente interessante oltre a quello prettamente percettivo questa è una mia esperienza molto personale io mi sono avvicinato al cammino abbastanza tardi avevo già più di 30 anni e ho scoperto che se il mondo non lo puoi vedere percepirlo con i piedi è decisamente più appagante cosa vuol dire? vuol dire che se io faccio un viaggio standard nel quale che ne so mi sposto da una località all'altra con un pullman piuttosto che con un taxi eccetera tutto ciò che c'è dal punto di partenza al punto di arrivo per me è completamente perso non c'è niente in quello spazio per me c'è l'abitacolo della vettura nella quale sto ma invece camminando a piedi noi possiamo percepire tutto quello che c'è in mezzo per esempio la sensazione questa è difficilmente descrivibile purtroppo di partire da un centro abitato quindi con la stradina l'asfalto le case il campanile della chiesa che ne so il profumo della pizza appena sfornata dal cornaio lì vicino e passare poi per un bosco quindi con un ambiente completamente diverso senza rumori di centro abitato con il profumo delle piante con l'umidità con con gli alberi i fiori gli uccelli il fango e altri altri elementi morbidi che qua non ci diamo eccetera eccetera e poi a un certo punto vedere che questo ambiente che può comprendere anche chiaramente una salita si sale si arriva in cima a monte si riscende a un certo punto questo ambiente si trasforma nuovamente in un ambiente più urbanizzato quindi tu a un certo punto trovi l'asfalto sotto i piedi e dici oi boh sono arrivato e trovi un ulteriore cambiamento quindi un nuovo centro abitato che ti si presenta davanti è una sensazione che veramente non apprezzo è difficilmente descrivibile ma è altrettanto vero che è impagabile questo non significa che tutti dobbiate chiudere gli occhi quando camminate se no andate a sbatte non è cosa però in qualche tratto si può fare ma non è solo questione di chiudere gli occhi ma di imparare allenare l'attenzione sugli altri sensi e riportarli e dargli il giusto valore e io vorrei anche correggerti se mi permetti che gli altri sensi non sono quattro sono forse addirittura 22 c'è un articolo sul nostro blog che lo racconta però di questo parleremo in un altro momento siamo persi 18 veramente molto di più e questa forse farò una diretta proprio solo su questo perché è un tema molto interessante nel frattempo vediamo se ci sono dei commenti c'è quello di di Maura Orlandi che torna che torna a scrivere e che dice che Fabrizio è quello il bello di viaggiare e del camminare hai delle sensazioni che non hai normalmente anche se devi fare fatica bravissima e questo proprio direi che ci porta quasi verso la chiusura cioè del fatto che la fatica è una delle soddisfazioni della conquista quindi anche la fatica che stiamo facendo in questi giorni spero e sono sicuro che ci porterà delle grandi conquiste ragazzi io vi farcerei la parola scusami Dario posso aggiungo un'ultimissima cosa un'altra grossa soddisfazione che si prova nel camminare questo a prescindere dal fatto che si veda o meno è anche quello che c'è dopo cioè la la sosta in un bar piuttosto che che ne so io in una pizzeria a mangiare una cosa dopo aver fatto una fatica incredibile oppure la doccia calda non apprezzo e a proposito di questo possiamo dire che con i pontieri del dialogo la sosta dopo il cammino mangereccia non manca mai se mangia sempre beh questo anche con noi con tutti i cammini che proponiamo noi collaborazione con Movimento Lento Appendino Slow abbiamo diversi partner e io vorrei buttarla lì così come una delle strette di mano virtuali che diventeranno reali perché no un giorno tutti a camminare con Pietro e con Noisy Vision e con Free Wheels sul cammino della solidarietà ragazzi è stato un enorme ti aspettiamo io vorrei invitare tutti voi e anche gli ascoltatori che ci sta seguendo a condividere la diretta di questo link perché parerete vuol dire questo camminare in questo momento vuol dire anche parerete come dicevano prima alcuni commenti stiamo camminando perché stiamo facendo un discorso in itinere quindi condividete anche voi questa diretta fate conoscere Noisy Vision fate conoscere Free Wheels fate conoscere queste realtà come noi sicuramente faremo conoscere voi perché l'importante è far conoscere le cose belle non manchiamo di ricordare di far conoscere anche il gruppo Io Cammino in Italia e di seguire la diretta di domani sulla pagina ufficiale della Via Francigena di AWF che si chiama Via Francigena dove Elisa Peruzzi appunto parlerà di come ricominciare a camminare e quindi io direi di salutare prima di chiudere saluterei i nostri amici ciao Andrea ciao Fabrizio li faccio uscire dalla onda dalla diretta e vorrei caro mio Pietro prendermi un momento solo con te tu darei un bacino un bacino da che parte della telecamera senza la candela dai un bacino dai un bacino è stato è stato bello è stata la prima volta non sarà un abbraccio un abbraccio che ti mando da questa parte ma le mie mani non attraversano il mondo purtroppo per ora ma è stato veramente bello c'è un chiacchierone ma meno male direi perché appunto abbiamo reso molto come dire vivace vivace la chiacchierata e niente rimandiamo come abbiamo detto ad la diretta di domani qualcuno di via Romea Romea Germanica dice grazie è stato molto interessante speriamo che lo sia stato per tutte le 80 persone che ci hanno seguito ciao Pietro ciao a tutti che ci hanno visto che ci salutava l'amico della via Romea Germanica sicuramente anche loro adesso programmeremo pian piano tutti i vari interlocutori avremo modo di parlare anche con loro della via Romea Germanica quindi continuate noi ci rivediamo non giovedì ma mercoledì prossimo questa volta giusto? giusto sì mercoledì prossimo ore 18 ma non mancata la diretta di domani con Elisa sulla pagina di EWF e su Io Cammino in Italia ciao dobbiamo far darci il 5 da qualche steppe di camere ciao Pietro ciao proviamoci beh io da che parte devo andare? di qua? no Daio devi andare più è bravo e poi dritto davanti no di qua così stai facendo Karate Kid ok punta sulla telecamera no più a sinistra più a sinistra più a sinistra più in su più in su Daio va bene grande ciao ciao a tutti